Sono con Paola Bisso allo stand Davo Vittorio Ricevimenti, un ristorante conosciutissimo che però propone anche catering per i matrimoni. Certo, da qualche anno abbiamo cercato di soddisfare la nostra clientela che ci chiedeva sempre di andare a cucinare diciamo nelle loro case e abbiamo cercato appunto di accontentare anche gli sposi trovando delle location affascinanti con piscina, parco, vista mare in ambienti magici o in castelli sperduti ma con parchi naturali diciamo incontaminati quasi e per accontentare diciamo i nostri sposi cercando di portare un ristorante direttamente a servizio diciamo del catering. Ovviamente non potevate mancare anche voi oggi sposi che è la fiera leader nel settore dei matrimoni, la più importante in assoluto e quali sono le richieste appunto dei clienti che vengono da voi? Che cosa vi chiedono? Beh ci chiedono principalmente la qualità perché poi alla fin fine ci conoscono per quello che siamo, siamo un locale storico d'Italia quindi da più di cent'anni proponiamo la nostra tradizione in fatto di cucina e in secondo luogo cercano magari delle ambientazioni, un contorno che possa diciamo avvolgere il loro matrimonio di magia quindi i fiori, le luci, ormai tutto è diventato importante non più soltanto il piatto. I sposi cercano sempre di avere ambientazioni abbastanza romantiche quindi ci sono poche spose in rosso, poche cerimogne in nero e da quel punto di vista lì diciamo che la tradizione è abbastanza mantenuta. E quanto tempo prima bisogna rivolgersi a voi per organizzare un bel matrimonio? Noi lo organizziamo anche in poco tempo, certo per mettere insieme tutti i vari tasselli bisogna diciamo arrivarci per tempo, ci sono degli sposi che arrivano un anno prima, altri che arrivano tre mesi prima, ce la si fa sempre a fare tutto. Certo è un pochino più stressante però si può fare anche in poco tempo. Grazie mille. Grazie, grazie a voi.